Salve a tutti amici di Marcos Box, benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. Eccoci per una sigla, fino alla fine devo mettere una piccola sigla per fare lo stacchetto. Chi mi aiuta a farla? Piccola parentesi, chiudiamola. La puntata di quest'oggi la voglio dedicare a commentare con voi la notizia del momento, ovvero l'indiscrezione riportata da Phronix, secondo la quale Microsoft è seriamente intenzionata a realizzare una versione nativa della sua suite di produttività Microsoft Office per Linux. Suite nativa che probabilmente avverrà la gluce nel 2014, quindi l'anno prossimo, in termini informatici e poco tempo. In rete c'è stato un grande scalpitare di pinguini, pinguini che si sono messi a fare il 3-1 Samba, altri pinguini che si sono messi a urlare dalla gioia. Perché? Perché vedono nell'arrivo di Microsoft l'abbattimento di uno dei scogli, delle scuse, diciamo così, che la gente utilizza per non passare a Linux, ovvero non c'è una suite di produttività come Office, quindi non c'è Office, non posso passare a Linux. È una visione condivisibile, come ben sapete io sono il primo che mi straio contro i problemi delle suite di produttività libere. Non faccio mistero che in passato ho avuto dei gravi problemi con LibreOffice, nello specifico con Word, perché Word comunque è fatto bene. La suite per Writer, come si chiama. E quindi, perché per l'utenza professionale, determinate caratteristiche mancano e non sono implementate correttamente. Però a mio avviso, come vi stavo dicendo, la venuta di Microsoft può essere l'inizio di un... è praticamente un cavallo di troia. Microsoft Office, come ben sappiamo, è uno delle... è lo standard di fatto delle suite d'ufficio. Uno standard che si è imposto a discapito degli altri, è che ha fatto sì che la Microsoft riuscisse a imporre il suo standard della creazione di documenti e quindi le suite di produttività libere devono rincorrere i standard Microsoft. Spesso e volentieri si legge che, ne so, che LibreOffice ha migliorato l'importazione. La notizia di oggi è che Calligra, anche essa ha migliorato l'importazione dei formati doc. Perché, praticamente, se uno deve lavorare con determinati formati, ha bisogno di una suite di produttività che riesca, appunto, ad aprire file provenienti da altre suite con formati proprietari. Che è, appunto, uno dei problemi maggiori delle suite di produttività libere. Dicevo, per me questa può essere una sorta di cavallo di troia. Ed è, non c'è nulla da gioire nella venuta di Microsoft. Come ben sappiamo, Office, che è il prodotto che rende di più a Microsoft, praticamente guadagna di più con Office che con il sistema operativo, con gli altri prodotti connessi. Office nativo significherebbe una, sì, più libertà di scelta e possibilità di poter utilizzare Office per chi ha i soldi, la pecunia, anche su Linux. Ma significherebbe anche ammazzare la fauna locale. Perché? Perché la maggior parte degli utenti, diciamocelo francamente, quegli utenti casalinghi, quegli utenti che utilizzano salatoriamente il computer per fare qualche documento, qualche foglio di calcolo, è crack, non la suite di ufficio. Diciamocelo francamente. Quante persone hanno la licenza regolare? Quindi si assisterà, secondo me, a uno scenario plausibile, secondo me, quello che arriva a Office, la gente, i pinguini, inizieranno a creccare Office anche su Linux, a discapito delle suite di produttività. Perché tanto, se io ho Office, che me ne frega a me di supportare LibreOffice e Outdoor Suite? Tanto ce lo posso avere gratis anche su Pinguino. Perderemmo in biodiversità, appunto. Nei commenti che sono stati sulla discussione coperta su Google Class, alcuni hanno citato, ad esempio, anche il caso di Photoshop, verso Gimp. Anche in questo caso, cioè, quanti di voi utilizzano Photoshop a livello amatoriale? Quanti di voi acquistano la licenza di Photoshop? Andate a vedere quanto costa la licenza. Per utilizzarla, magari per fare la correzione degli occhi rossi, o cavurate varie, per organizzare le foto di vacanza. Quindi, come dicevo, a mio avviso, la venuta di Microsoft è un male. Un male perché gli utenti ne perderanno in biodiversità. Voi che cosa ne pensate al riguardo? Siete favorevoli all'arrivo di Microsoft, che non è che possiamo più accadre, diciamoci francamente, perché comunque, se vuoi sviluppare una suite di produttività, anche per Linux lo fa, appunto. Cioè, non è che noi possiamo fare qualche cosa al riguardo. Però dico, siete favorevoli all'arrivo della suite di produttività di Microsoft Office all'interno di Linux, oppure siete contrari? Se sì, perché? Se no, perché? Perché? Vi chiedo ciò. Perché, appunto, come ho detto prima, a mio avviso, ci sono più problemi che benefici per gli utenti comuni. Come ho scritto, provocatoriamente, si può dire così, vabbè, come ho scritto, ho scritto una provocazione nel post che arrivo. Se volevo un sistema basato su Unix e con software proprietario, a questo punto sceglievo un sistema Apple, cioè un Mac OS X. Linux non è libertà senza paletti. Linux è libertà di poter utilizzare software, ma è anche utilizzare e promuovere software libero. Ecco perché la riflessione che faccio io è questa, appunto. Sì, è bello poter avere determinati software anche su Linux, però questo ne va a discapito dell'esistenza di Linux dal punto di vista stalmaniano dell'adozione di Linux. Beh, vi lascio le risposte, a voi i commenti, spero che saranno numerosi. Mettete un mi piace e se volete condividere, ricordatevi che potete condividere su Google+, su Facebook, su Twitter, anzi, condividete perché non so se avete visto la classifica di Abusing del mese scorso e sono leggermente sceso. Perché non mi condividete? Perché non mi condividete? Dico che cazzate, dico... Cioè... Aiutate. Bene. Alla prossima e... Ciao ciao!